Occhio, perché quando hai qualcuno intorno che dice di volerti aiutare, devi sempre assicurarti che magari non sia perché tu hai qualcosa che interessa a quel qualcuno. Questa è la gente. Questi sono i tuoi problemi. I tuoi problemi che tu conosci, che tu hai vissuto, che tu hai affrontato e affronti. Loro pensano di saperlo, ma invece guarda un po'. Se provi a condividerli, sarà pieno di gente che si farà avanti fingendo di aiutarti. In realtà si nutriranno del tuo dolore per autoconvincersi del fatto che loro soffrono meno di te, che c'è chi sta peggio. A loro non importa niente di te. E a nessuno importa in realtà. Infatti poi, nessuno rimarrà. Ricordatelo.